Cercherò di portare i fatti anche nella politica. Mi dimetto dalla giunta nazionale, dal regionale, mi dimetto da tutto perché io voglio, ho solo un obiettivo, quello di cambiare questo territorio. Io faccio gli auguri a Massimo, mi riconosco in quello che ha detto, riconosco in lui la figura di un imprenditore moderno del sud. Grazie.